Proviamo a leggere o a rileggere Guido Maupassant. Maupassant è uno scrittore importante, uno dei più importanti scrittori francesi dell'Ottocento, anzi uno dei più importanti scrittori francesi in assoluto. Vi propongo oggi un romanzo che non è fra i più noti, ha scritto sei romanzi Maupassant, è morto giovane, ha 43 anni, ma ha fatto in tempo a scrivere sei romanzi e decine e decine di racconti, alcuni formidabili. I romanzi più noti sono per esempio Bellamy o Une vie, Una vita. Ma io vi propongo Pierre et Jean, che qui ho in una edizione francese, ma in italiano ha parecchie edizioni, la più recente, la più aggiornata è l'edizione Garzanti. Pierre et Jean è il nome di due fratelli, si comincia con un gruppo di famiglie sull'acqua, a Le Havre in Normandia, un gruppo di famiglia che sta a pescare su una barca. C'è un papà, ruvido, ex negoziante gioiellieri a Parigi che adesso vive a Le Havre con i risparmi che ha messo da parte in una vita di negoziante, abbastanza volgare, abbastanza duro, un personaggio mediocre. La moglie è più sensibile, più addolcita, piccolo borghese. E poi ci sono i due figli, i due giovani fratelli, appena diventati adulti, Pierre che si è appena appena laureato in medicina, dinamico, ambizioso, e Jean che si è appena appena laureato in diritto, più mite, più addolcito. I due fratelli hanno fra di loro una gelosia che talvolta accade fra fratelli. Una gelosia che ha parecchie motivazioni. All'inizio del romanzo capiamo che c'è un'amica di famiglia, una giovane e carina vedova, che così potrebbe fare la corte dei due fratelli, anzi sono i due fratelli che sono un po' innamorati entrambi di lei, c'è questa gelosia, e poi vogliono primeggiare, sono diversi. Ma poi c'è anche un'altra differenza che è indotta dalla trama del romanzo, è subito quasi in avvio, perché un bel giorno arriva una notizia, un vecchio amico di famiglia di quando stavano a Parigi, il signor Maréchal è morto e ha lasciato una fortuna in denaro come rendita a uno solo dei due figli, Jean, il minore, e niente all'altro. E questo causa un buon problema, perché il figlio maggiore, senza l'eredità di questo amico di famiglia, comincia a interrogarsi sul perché, la sua gelosia si ribalta sull'aspetto dell'eredità, e poi nascono in lui dei sospetti, vuoi vedere, vuoi vedere che la mia dolce mamma ha avuto un peccato d'amore, più indietro negli anni, e non vi racconto la trama. Dico solo che Mon Passat in questo romanzo mette in scena un groviglio familiare, fratelli coltelli in qualche modo, però c'è un legame contraddittorio, si vogliono bene, ma c'è una gelosia, c'è un confronto, ma poi anche un groviglio di rapporti, matrimoni non felici, passioni d'amore nascoste, insomma, e poi anche il groviglio interiore nell'animo di ciascuno dei due fratelli. Una storia che è vissuta in parallelo, con un esito che non vi dico, e qui viene fuori la forza di Mon Passat. Si diceva che lui fosse legato alla corrente del realismo, cioè raccontare in modo obiettivo la realtà con lo sguardo esterno, ma questa volta lui va oltre, perché certo racconta con realismo questa storia, ma allo stesso tempo compie degli affondi dentro i grovigli psicologici dei personaggi e poi ci regala alcuni ritratti di personaggi eccellenti, ma soprattutto anche delle pennellate di paesaggi, paesaggio normanno di terra e di acqua, che sono quasi da impressionismo pittorico francese. Guido e Mon Passat, uno scrittore da scoprire, questa volta attraverso questo romanzo Pierre et Jean.